Solita conferenza annuale in questo periodo estivo da parte dell'amministratore unico di alto calore servizi Michelangelo Ciarcia. Le criticità sono le stesse, anche se non sono state riscontrate particolari problemi per quanto riguarda il servizio idrico irpino. Ovviamente gli allarmi sono sempre gli stessi e riguardano soprattutto i allacci abusivi, il riempimento delle piscine, le reti con la brodo. L'amministratore Ciarcia ha parlato anche dei fondi PNRR, per questo la scadenza è quella del 31 ottobre, ma sentiamo direttamente le sue parole. In questo momento la situazione non mostra problemi di criticità, però noi siamo preoccupati, come ho già detto in altre occasioni, per l'allarme generale che c'è in tutta Italia, per la siccità che sta soprattutto colpendo il nord e il centro Italia. Noi abbiamo avuto precipitazioni nevose durante l'inverno, però pensiamo che non siano sufficienti a poter reggere il sistema, che eventualmente la calore estiva si faccia ancora sentire. Quindi siamo preoccupati e teniamo tutto monitorato per il momento. Questa nota regionale è arrivata a fine maggio, che ci ha messo praticamente sul chi vive, perché in altre parti sul fiume Sarno e sul Garigliano hanno riscontrato un 20% in medio rispetto agli anni precedenti, quindi potrebbe verificarsi la stessa cosa da noi. Per il momento le fonti e le sorgenti sono ai livelli dello scorso anno, però i cali potrebbero essere repentini, per cui la preoccupazione è molta. Ci stiamo attrezzando per sopperire eventualmente le deficienze anche con ipotesi sostitutive, quindi stiamo facendo una gara all'appalto per quanto riguarda il trasporto dell'acqua con le botti che sono di tipo alimentare. Senta Presidente, lei ha fatto soprattutto un appello anche alle amministrazioni comunali, una sorta di task force da istituire per cercare di scovare i furbetti. Abbiamo detto che il problema principale è il riempimento delle piscine in questo periodo. Questo è il periodo che va dopo il 15 maggio fino al 10 giugno, è noto per deficienza di acqua perché viene utilizzata soprattutto per queste cose. Noi lanciamo allarmi, avvisiamo la popolazione con messaggi giornalistici oppure con comunicati che facciamo ai sindaci e cerchiamo di mettere sul chiuso le persone. Però ci vorrebbe molta collaborazione perché le cose da controllare sono tantissime. La prima collaborazione viene dal cittadino, poi dalla pubblica amministrazione, con i vigili urbani e poi quello che possiamo fare noi e che stiamo facendo con l'aggiornamento che abbiamo fatto quando riguarda la lettura con foto che vengono scattate dai contatori e quindi dove c'è l'abuso viene immediatamente riscontrato, non può essere più nascosto perché la foto viene inserita nei computer aziendali e quindi sono riscontabili anche a distanza di tempo. Non possono essere depennate, cancellate perché c'è sempre qualcuno che potrebbe eventualmente cancellarle, però perché poi è visibile chiaramente chi ha fatto la manovra. Quindi noi la nostra parte la svolgiamo fino in fondo. Noi stiamo lottando contro tantissime cose, lotteremo anche contro questa. Purtroppo devo dire che nel periodo che va dal 2018 ad oggi non ho avuto nessun aiuto in nessun modo. Sto facendo tutte con le mie mani grazie alla collaborazione anche di tantissimi dipendenti di alto calore. E anche questa vicenda, perché purtroppo, nonostante, l'ho detto anche in Assemblea dei Soci, alto calore è una società che esiste da 80 anni e non ha la vicenza per vendere l'acqua. E' una cosa che bisognava vedere dal 2003, da quando è diventata la S.P.A., cosa che non è stata mai fatta e prima praticamente era molto più semplice perché non c'era l'enditico a Campano con sede a Napoli, ma c'era praticamente l'Ato, Avelino e Benevento e quindi le questioni si dovevano risolvere qua. Con tutte le personalità politiche che hanno governato l'Irpinia e anche l'Alto Calore, purtroppo non si è riusciti ad ottenere questa benedetta autorizzazione per la gestione dell'elitico integrato. E quindi noi stavamo alla ricerca disperata di avere questa benedetta salvaguardia che per il momento non ci è stata data. Cercheremo di ottenerla con le attività che stiamo volendo essere in questa fase. Avete sentito parlare di divisione di ambito, di scissione societaria. Stiamo rielaborando le questioni che ci riguardano per poter continuare a gestire l'elitico integrato in Pruncetti Avellino.